Hola mis amores, benvenuti al mio canale, io sono Vania e oggi facciamo questa richiesta, questo video richiesta che si tratta di come maniobrare questo aggecio senza farlo intrecciare sui capelli Bentornate al mio canale, io sono Vania e adesso si ragazzi cominciamo con questo tema perché tra l'altro è stata una richiesta, mi hanno fatto ricordare ragazzi perché anch'io ho passato, ho vissuto questa situazione allora la richiesta è stata ovviamente come avete già letto il titolo di questo video si tratta di come utilizzare per prima volta questa spazzola senza fare intrecciare i capelli attorno alla spazzola perché ovviamente poi una volta che si intrecciano per toglierli è un casino credetemi sì, infatti io mi ricordo anche io ho vissuto questa questa situazione perché ovviamente prima che studiassi questa carriera dei beauty non sapevo nemmeno come utilizzare una spazzola del genere perché tra l'altro vivendo in un posto caldo lasciavo che i capelli si asciugassero con l'aria calda normale cioè senza asciugarlo ma comunque volevo fare un po' un cambio con i miei capelli perché volevo, non lo so, sapete come siamo le donne vogliamo sempre creare un cambio e vedervi un po' diverse dal solito a volte, a volte, non tanto a volte ma sempre così quindi ho comprato una spazzola rotonda e ho fatto la prova a casa ovviamente senza nessuna dritta cioè non avevo nessuno che mi dicesse guarda che lo devi prendere così o colà in quel momento non esisteva Jutuf quindi ragazzi questo è un vantaggio tremendo che voi avete Jutuf quindi ho comprato una spazzola come questa rotonda e ho cominciato, ho voluto, volevo creare i capelli, farmi i capelli lisci mamma mia, dalla prima sciocca che ho preso perché non sapevo nemmeno come utilizzarlo come dividere i capelli o cosa fare ho fatto questo così, ecco il fondo l'unica cosa che ho fatto è intrecciare i capelli attorno alla spazzola mamma mia ragazze, non vi racconto perché cioè nel senso che, sì vi racconto, come no? era tutto intrecciato, non sapevo come togliere la spazzola dai capelli mi è venuto un nervoso perché rimaneva proprio qua così la spazzola e non se ne andava via e io cercavo, mentre mano a mano cercavo di toglierla, di separare i capelli oddio, cioè più si intrecciava e più rimaneva qua cioè era una cosa proprio... mi è venuto un nervoso che veramente volevo prendere la forbici e tagliare tutto perché non volevo sapere più niente perché mi sa che era passato già più o meno 40 minuti io cercando di togliere questo coso ho chiuso, ho chiuso con la spazzola, ho chiuso con tutto e fino a quando ho cominciato a studiare questo mondo del beauty ho saputo, ho imparato come si utilizza questa spazzola senza fare intrecciare i capelli quindi questo ovviamente è un video proprio per delle ragazze che stanno alle prime armi e che vogliono... perché è impossibile ragazzi andare ogni volta dal parrucchiere a farsi la conciatura, ma lo volevo fare a casa cioè è impossibile sempre così cioè se io volevo uscire all'improvviso la sera che mi invitavano a uscire, in quel momento chiamavo il parrucchiere e vedevo se aveva un posto per me e se no come facevo quindi ho imparato questo qua allora è molto molto facile non è per niente difficile ci vuole un po' di attenzione un po' di pratica perché è vero ci vuole la pratica ma niente, niente dell'altro mondo quindi ragazze se volete imparare allora continuate con me e vediamo insieme come utilizzare questo aggeggio e per cominciare come vedete ho i capelli bagnati perché infatti ho finito di fargli la doccia infatti se vedete ancora non passo nemmeno la spazzola i miei capelli sono tutti così ma per evitare questa situazione che la spazzola finisca tutta intrecciata fra i capelli io do una mano tanto ai miei capelli come alla spazzola con un olio io sto utilizzando questo che si chiama aceite di osso ma vi dico che me lo hanno fatto arrivare dal Messico e io lo uso tantissimo sulle mie punte e infatti ho visto un miglioramento assoluto sui miei capelli quindi io prendo un po' tra l'altro non lasciatevi andare per il nome di questo prodotto perché si chiama aceite di osso non è un olio di orso proprio infatti come vedete è tipo una crema è un trattamento proprio capillare ma io lo uso solo sulle mie punte e non lo applico sulla mia cute perché voglio creare un po' di volume e questo fa pesantire un po' i capelli soprattutto in questa parte ma va bene questo discorso lo lasciamo per un altro video intanto io passo questa spazzola quadrata vedete che mi facilita tantissimo il lavoro e come vedete inizio a pettinare le punte comincio così vedete un po' così non faccio che si rompano i capelli e poi vado da su a giù però prima devo pettinare le punte e adesso prendo il mio forno prima di tutto vado a tamponare un po' i capelli perché se io passo direttamente la spazzola che è qua tra l'altro e questa è la spazzola che andiamo a utilizzare questa è rotonda se io passo la spazzola così direttamente con i capelli bagnati l'unica cosa che vado a fare è bruciare i capelli e quindi ovviamente non vogliamo quello la prima cosa che realizzo è tamponare un po' i capelli così si asciugano un po' e poi posso lavorare senza bruciare i capelli quindi tolgo il beccuccio e comincio ad asciugare i capelli ok adesso si wow ok adesso sono già tamponati i capelli e passo un'altra volta questa spazzola maggiormente sulle punte per evitare rompere i capelli quello che vado a realizzare è separare i capelli quindi la prima cosa che faccio io comincio a lavorare da sotto da questa parte dietro quindi separo i capelli e prendo questa ciocca questa qua e questo lo prendo con una pinza e separo a metà queste due ciocche adesso si può sottogliere l'asciugamano colloco un'altra volta il beccuccio e adesso come ho separato in due sarà più facile lavorare con la spazzola quindi prendo vedete è più facile così quindi prendo questa ciocca la prendo così e poi prendo il fono e lavoro in questa forma intanto il fono fa l'aria io vado girando giro così vedete giro e giro in questo modo non si intreccia i capelli attorno alla spazzola prendo un'altra volta in questa parte di sotto cioè proprio non proprio attaccato alle radici perché altrimenti vi bruciate però vedete che c'è questo piccolo c'è questo piccolo spazio vedete qua perché se fate proprio questo se attaccate proprio così alla cute questa spazzola al momento che voi fate questo movimento di girare la spazzola così i capelli che facciamo finta che sto lavorando in questa parte i capelli che ci sono qui sotto li prende e quindi questo fa che si intrecci i capelli attorno alla spazzola quindi dobbiamo lavorare un po' staccato dalla cute e cominciare a girare a girare intanto lavoriamo allo stesso tempo col fono così intanto fa l'aria così noi giriamo la spazzola quindi adesso comincio e voi così potete vedere come lavoro con la spazzola quindi lo accendo e vado e vado vedete prendo un'altra volta vedete e vado piano piano girando allo stesso tempo che col fono l'aria del fono va asciugando e modellando i capelli vedete non attacco la spazzola quindi faccio questo tiro e poi giro e faccio questo vedete adesso i capelli infatti si vedono più lucidi e sono più morbidi adesso come abbiamo già lavorato con questa ciocca quindi mano a mano che andate a lavorare con questa ciocca poi vi rendete conto che diventa più morbido e più facile di lavorare e non fate tanta fatica non dovete tirare assolutamente quindi io adesso sto lasciando che si raffredde un po' insieme alla spazzola perché così si crea più questo boccolo che quello che sto facendo però intanto vi sto spiegando come non far intrecciare la spazzola quindi adesso è il momento di toglierla perché anche questo è un altro passaggio importante per non fare intrecciare i capelli al momento che togliamo la spazzola quindi io faccio questo e ecco vedete così e infatti non si è intrecciato e adesso facciamo quest'altra ciocca e facciamo lo stesso movimento quindi prendo la ciocca e comincio a lavorare giro vedete il giro vedete giro e adesso un'altra volta vedete giro la spazzola ed ecco qua il boccolo quindi facendo attenzione a questi passaggi è molto più facile e non si intreccia nel momento che state facendo i capelli nemmeno nel momento che togliete la spazzola e poi mano a mano che utilizzate la spazzola sarà molto più facile quindi continuo a fare il resto dei capelli così vedete da dove ho cominciato e adesso vedete e sicuramente vi chiedete ma di cosa si sta a ridere questa qua è perché ho fatto proprio una sto facendo proprio una diretta in questo momento che sto facendo il video l'ho fatto su su instagram cioè lo sto facendo su instagram mi sto guardando i commenti e mi viene da ridere comunque per chi non mi segue ancora su instagram vi lascio come al solito nell'infobox tutta l'informazione anche del mio instagram quindi cliccate e seguitemi io veramente sto morendo delle risate ok guardate che bel boccolo guardate quanto è facile e alla fine questo è il risultato finale ragazze che ve ne pare veramente a me piace tantissimo utilizzare la spazzola da quando ho imparato utilizzarla non posso fare a meno non esco di casa senza farmi un'acconciatura quindi spero che questo tutorial vi sia stato di aiuto e ricordatevi che solo dovete fare tanta pratica per poter maniobrare benissimo questo aggeggio e credetemi che diventerà la vostra migliore aliata o amica per creare delle diverse acconciature ed essere gnocche quindi ragazze lasciatemi i vostri commenti e non dimenticatevi di iscrivervi a questo canale lasciatemi un bel like e io vi aspetto la prossima settimana sul mio canale vania lezzama questo qui che state guardando adesso quindi adesso io vi lascio un bacio enorme e ci vediamo alla prossima bye bye bye